In questo video vi parlerò dei conflitti biologici secondo il dottor Hamer. Vi invito prima di questo video ad andare a vedere il video precedente sulle 5 leggi biologiche. Allora vi condivido le slide più grandi in modo che possiate leggere meglio. Un conflitto biologico è un'esperienza traumatica, uno shock, un'esperienza inaspettata di non poter adempiere ad una funzione organica. Viene percepito a livello sensoriale o una percezione che nasce dal rapporto con l'ambiente ed è in relazione ad una funzione specifica dell'organismo. I valori di riferimento sono quelli biologici. La soluzione è quindi il ripristino della funzionalità specifica. Si attiva quando si ha la percezione che nell'ambiente in cui viviamo c'è qualcosa che ci minaccia in maniera inaspettata e minaccia cosa? Una funzione dell'organismo. Ad esempio non digeriamo più un boccone. Siamo bloccati in un movimento. Non riusciamo a marcare il territorio, magari non riusciamo ad urinare. Ci sentiamo attaccati. L'organismo non ce la fa a fare qualcosa che per noi è di vitale importanza. Si parte dallo shock, la sindrome di Dirk-Hammer, come la chiama il dottor Hammer, che attiva sempre dei conflitti emotivi, che si manifestano biologicamente su un organo determinato, al fine di mantenerci in vita. Iniziamo da uno dei conflitti più potenti, ovvero il conflitto del profugo. Il conflitto del profugo o attivazione dei collettori renali è un conflitto esistenziale ed è uno dei più gravi. La persona che vive questo tipo di conflitto trattiene i liquidi per sopravvivere. In questo conflitto si rivede l'atteggiamento del pesce, che si ritrova a secco e per sopravvivere deve trattenere l'acqua, in attesa che torni la marea. La persona quindi si sente come un pesce fuor d'acqua. Perché? Perché non ha più punti di riferimento. Come se fosse proprio in alto mare, come un profugo, e non avesse più una bussola. Questo conflitto si può verificare, per esempio, durante lunghi viaggi. Quando siamo su un aereo, non abbiamo punti di riferimento, siamo in aria, i nostri piedi non sono a terra. Infatti, se avete fatto dei lunghi viaggi in aereo, avrete notato che i piedi si gonfiano. Quando siamo fuori dal nostro ambiente naturale, per esempio in periodi di ospedalizzazione. A volte anche le donne in gravidanza hanno gonfiori alle gambe o ai piedi, il che può significare che la donna magari vive la gravidanza come una limitazione, come qualcosa che apporterà un cambiamento che però lei non sa qual è. A volte una persona obesa non è tale perché mangia molto, ma perché si sente profugo, in quanto non si sente a proprio agio nel suo corpo. L'effetto principale della sindrome del profugo, quindi, è il trattenimento dei liquidi e dell'urea. Quindi, facciamo meno pipì, in poche parole. Il che porta a gonfiori, specialmente ai piedi e alle gambe. Se ci sono vari conflitti, diciamo che quello che va affrontato come primo conflitto è proprio quello del profugo. Un altro conflitto è quello del boccone. Ho detto anche conflitto di sopravvivenza. E' la percezione istintiva che ci manchi il supporto minimo indispensabile al mantenimento della vita, al rimanere in vita, o che una o più funzioni vitali siano invalidate o impedite. E' importante sottolineare che alimentarsi comprende anche il respirare bene, il bere, il percepire i suoni, e quindi può esserci un boccone di aria, un boccone di suono, un boccone di luce, il vedere bene la luce, che l'evacuare comprende anche l'espirazione, l'evacuazione intestinale, urinaria, il vomito. Per un animale il conflitto del boccone è in riferimento all'avere mangiato, all'avere respirato, all'avere copulato, all'avere evacuato. Per noi invece esseri umani che siamo un po' più complicati, l'aria non è solo l'aria da respirare, ma è anche la libertà che viviamo o non viviamo. Quindi l'aria al conflitto del boccone d'aria riguarda tutto ciò che ci limita la libertà e la capacità di esprimere questa libertà. Per esempio quando diciamo a qualcuno ma lasciami respirare, respiriamo efficacemente, ma la nostra percezione è quella di mancanza d'aria. Quindi quando qualcuno ci opprime sentiamo che ci manca l'aria. Quindi il problema, il conflitto, è sul boccone d'aria. Le manifestazioni per esempio possono essere l'asma o l'enfisema polmonare. Per noi il boccone può essere anche il denaro, il lavoro, un riconoscimento, la sessualità, le offese, le parole dette o udite che ci fanno star male. Quindi un boccone di udito. La mancanza o la possibilità di accettare o di evacuare una o più di queste cose può innescare il conflitto del boccone. Dobbiamo quindi capire la differenza tra ciò che è indispensabile alla vita e ciò che invece viene prodotto da un pensiero. Ad esempio nella sessualità per l'animale serve per la riproduzione. Per l'essere umano invece no. Questo però innesca una serie di problematiche che possono andare dal sesso forzato al ricatto sessuale alle violenze all'impotenza alla sterilità. conoscere e comprendere cosa si intende per boccone è utile per capire come percepiamo le privazioni gli impedimenti e anche per evitare recidive e per andare a vedere i pensieri che sono collegati alla scarsità all'abbondanza anche in termini emotivi nella nostra vita. il conflitto di attacco è un conflitto di minaccia all'integrità. possiamo valutare anche questo contenuto prosegue nella sezione abbonamenti. Abbonati al canale e avrai accesso a numerosi contenuti esclusivi e aiuterai a sostenere Università Popolare del Sociale con un piccolo contributo di soli 3,99 euro al mese.